Festival di Sanremo, prima serata, sono Gianni Sibilla e questa sera vi guido nel meglio e nel peggio di quello che è successo. Una serata lunghissima, se vedete le occhiaie proprio per questo motivo, quasi cinque ore di spettacolo, ecco quello che ci è piaciuto e quello che non ci è piaciuto. Cominciamo dal meglio della serata, come vedete qua in sala stampa c'è ancora un bel po' di fermento, le esibizioni si sono appena concluse, ci è apparto un buon livello delle canzoni con alcuni fichi, in particolare che ha dato veramente una gran bella canzone. Irene Grandi, posseduta dallo spirito di Vasco, non solo perché ha scritto la canzone, ma anche nel tipo di performance, ed è una canzone molto contemporanea. Infine il peggio della serata, la cosa che ci è piaciuta di meno è l'eliminazione degli Eugenio in via di gioia tra i giovani, che ci sembrava la proposta più interessante e contemporanea. L'altra cosa che ci è piaciuta di meno è la regia e la messa in scena decisamente un passo indietro rispetto agli ultimi anni, dove le canzoni visivamente erano rese molto molto bene. In generale una serata, dicevamo, molto lunga, con tante cose diverse tra di loro messe assieme, non sempre legatissime, vedremo come proseguirà domani. Arrivederci, buonanotte e buona giornata.